Chi non si forma si ferma. Vale in tutti i campi, in questo caso parliamo di meccanici ed elettrauto che hanno ancora una manciata di mesi a disposizione per acquisire la qualifica di meccatronico. In caso contrario, dopo il 5 gennaio 2023 saranno costretti a chiudere. Ad oggi purtroppo di quelle officine interessate sono ancora una sessantina in quanto non si sono adeguate ad una legge che è del 2012, la 224, dove è stata data questa possibilità di adeguarsi allora con una proroga di 5 anni e oggi siamo alla scadenza per ottenere questa qualifica. Forte del successo del corso 2021, cui parteciparono officine e concessionari di Sondrio, Pavia, Como, Bergamo e Lecco e preso atto che non ci saranno ulteriori proroghe, Confartigianato ha deciso di organizzare una nuova edizione del corso per il prossimo autunno, addirittura gratuita per gli associati e a un prezzo simbolico per chi non lo è. L'ultima occasione, l'ultimo treno, prima della deadline del 5 gennaio 2023 ed è un treno gratuito, un corso qualificante di 40 ore specifico per i meccanici motoristi che devono acquisire le competenze di elettrauto. Sarà l'ultima occasione per mettersi in regola con un corso di 40 ore. Da gennaio 2023 chi vorrà acquisire la qualifica di meccatronico pur essendo già meccanico motorista non potrà più beneficiare di un percorso così breve. Il percorso standard per ottenere la qualifica dura infatti ben 500 ore. Da sottolineare inoltre la gratuità del corso a differenza degli 800 euro chiesti da Asconauto per il corso di 40 ore in due giornate organizzato a luglio a Perugia o dei 2.400 euro più IVA delle 500 ore del percorso standard che si può seguire online. Consiglio a tutti veramente di frequentarlo perché non ci sono altre alternative salvo appunto quella di assumere una persona o inserirla in società una persona con la qualifica già a posto insomma. Dal 5 gennaio 2023 o si è meccatronici o non si è. Esiste una sola alternativa al corso per ottenere la qualifica da meccatronico il diploma conquistato a scuola. Ci sono invece dei ragazzi che uscendo da scuole titolate quindi uniti su quant'altro avranno già questa qualifica assumendo questi ragazzi c'è la possibilità tramite loro già di poter operare sulle autovetture. Ma se il tempo stringe ancora per una sessantina di officine della provincia c'è anche chi ha già provveduto da tempo ad adeguarsi. L'adeguamento a questa normativa permette di seguire la macchina in un modo migliore per aggiustare adesso una figura come meccanico come inteso di una volta non riesce più ha bisogno di un appoggio di un elettrauto e da qua è nata la figura del meccatronico. Certo continueranno ad esistere carrozzieri e gommisti tuttavia per mettere mano a ciò che non è gomme e telaio dunque motori, luci, batterie, scarichi, doppi comandi, cambio e così via occorrerà essere meccatronici. Non è necessario che tutti coloro che lavorano in un'officina siano meccatronici assolutamente però per ogni azienda o se l'azienda ha più sedi operative, uno per ogni sede operativa è che ci sia una persona per ogni sede operativa dell'azienda. E anche qui ritorna il problema della mancanza di personale. Noi anche in questo periodo stiamo cercando so che anche tante concessionarie e altre officine cercano e il problema è proprio quello che non si trova personale. Il lavoro c'è, è il personale che manca. Allora Allora Qua